4, 3, 2, 1, via! Ragazzi, è una grande, divertitemi! E viva la premostura! Ci salutiamo in parte! Eccoli qua! Salutate a Vici Parenzi se potete! Ciao raga! 4, 3, 2, 1, via! Riesce! 4, 3, 2, 1, via! L'applauso è un po' di rinforzamento! Riesce! Bravo! Bravo! E' un po' di rinforzamento! E' un po' di rinforzamento! Ragazzi, vi avviciniamo! 4, 3, 2, 1, via! Riesce! Grazie! 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 Grazie a tutti.